Adesso aspettiamo di leggere il testo. Io credo che forse la Commissione avrebbe fatto bene. Adesso vediamo cosa verrà fuori da questa proposta, ma credo che il punto sul quale avrebbe dovuto insistere è l'estensione della contrattazione collettiva in tutti gli Stati membri, perché se non si sostengono le parti sociali in Europa diventa difficile poi sostenere i salari e quindi io credo che assolutamente sia meritoria l'iniziativa relativa ai salari minimi, però è importante stabilire anche delle soglie al di sotto delle quali non si possa andare, perché come tutti sappiamo ci sono ormai in Europa paesi che hanno un livello di salario minimo molto alto, penso a Lussemburgo, e altri paesi come ad esempio la Bulgaria che ha dei livelli che non sono assolutamente dignitosi. E quindi io credo che se si agisce da questo punto di vista, cioè magari facendo un'armonizzazione e cercando di portare i salari minimi, ma anche i salari in quanto tali, verso l'alto, allora questo è positivo, perché davvero ha un impatto, un impatto reale sui lavoratori e può anche combattere la povertà, perché purtroppo oggi stiamo anche assistendo a dei fenomeni che riguardano i lavoratori poveri, quindi c'è proprio un problema salariale alla base, non è solo la questione dei salari minimi. Purtroppo in alcuni paesi europei la contrattazione collettiva non è sviluppata, le parti sociali sono molto deboli e quindi di conseguenza anche il lavoro che si può fare per aumentare i salari è più complicato, quindi io credo che un segnale positivo sarebbe stato quello di aiutare la contrattazione collettiva ed estenderla in tutta Europa.